tu guarda io ho fatto le cose io ho fatto le cose che punto è rigo fino a qua lo spara a chiodi ti piacciono i cannotti hai capito tu ehi, guardi i cannotti ehi, grazie ehi, grazie ehi, grazie ciao Massi ciao Massi tutto bene allora vai chi sei? lucidi come un bordello, proprio nuovo Massi strano, questo bordello non lo conoscevo si vede che una volta ne ha aperto un altro bella, bella, bella bella, bella ti ringrazio Maggiore magari spimpatassi qualcosa staresti pure meglio bella ho saputo che è stato un poco bene l'attivare Massi si, si, mi son girati con i giorni io ne ho passato domani hai ragione, scusca scusa Massi vai a farti un giro vai a farti un giro vai a farti un giro voi due pezzetti io vi faccio entrare in un giro che manco ve lo immagino eh beh, siamo qua per questo eh, appunto, perché sennò dovete andare a raccogliare i ceci per tirar su due dire, vero? per solito cazzate, spacciare il fumo, capito? ma questo non va bene non mi va più bene Giacomo Giacomo allora io vi do questa grossa chance adesso guarda, Massi ti siamo arrumati eh, bravi, bravi lì non sparami nei coglioni mi stanno già girando da qui, non basta allora questa sera voglio un incontro tanta classe la fine dell'incontro con la morte dei lottatori ok perché a me queste cose da oratorio non mi piacciono sì, come quella dello scorso anno che abbiamo organizzato su a Cortina che una volta l'abbiamo sepolto nella neve e con la primavera ci hanno beccato perché così magari riferite i bolletti spiriti a bolletti di salienti classe, avete capito? organizza il massimo, classe hai un combattente nuovo com'è che si chiama? è potente è forte questa è professionista quello lì era il verdice mondiale della catena roba il nome Massi il nome sono ragazzi miei tu vedi di ricordarti quello del tuo che te lo devi fare subito stampare sulla latina no, perché non so non so se è all'altezza della situazione noi abbiamo pensato uno a un certo livello ex professionista uno scozzese ha combattuto in Argentina combattuto prima in Australia con i canguri ne ha uscita non so se era l'altezza hai capito va bene allora ci vediamo stasera si ok ok va bene ma è qua chi è? aspetta che lo sei portato presto no no è lui è amico andate 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 vai piani che cazzo no? vai male Paoletto è in giro? si si Paoletto! 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 è quello che sta sempre bravo! vai piani che cazzo vabbè a fare un cappare sei capace sei capace a fare un cappare almeno quello vabbè a farlo no? che cazzo che cazzo lo chiede a me ma esci dove cazzo vuoi no? è bello eh è bello eh ti piace è la bustola dove l'hai trovato? ah è giro in argentina hai fatto bene fai vedere un po' il muscolo il muscolo però cazzo è lì se Matteo vai tagli un punto che ne dici? uuuuuh uuuuh 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 Che soddisfatto! Un minchia pesante quel marchio, eh! Quello è un tipo veramente duro! Veramente duro! Vent'anni fa, quando era molto più magro, era un killer, in New York. Mi aprì fuori! Dai, Piro, forza! Sei morto! Mio caro! Mi controllo scommesso, candestine, incontri... E io! Posta! Oh, scusa! Oh, scusa! Un po' di box... Ma, secondo me, un po' di... I contati! Self-fighting! Oh, aria! Il cazzo di mangiare! Ma crede io! Non so, però non dargli colpetta! L'azzo! E si, cosa dici del colpo? Quello... Ah, mi cade dopo un colpo! Piro! Magari si attaccava... Piro! Probabilmente il macigno! Il macigno mi si che... Oh, scusa! 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 Piro! Piro! Ho trovato! Ho trovato! Porca puttana, ho trovato! Cosa dici del... L'ex carcerato lì, la Castovano... Il... Johnny Bello! Johnny Bello! Johnny Bello! Eh! Porca... Quello forse... Usiamo Johnny Bello! Andiamo a divertire, eh! Buone! Un minchia pesante quel masso, eh! Il masso è un tipo pericoloso! Tanto pericoloso! Pensate che vent'anni fa quando era più male, molto più male, era un killer, New York... E' un cese a pizzese! Piro! Passa! Piro! Adesso si è buttato... Sul controllo scommesse, controllo incontri, incontri di galli, cani... Piro! Occhio! Oh, scusa! Scusa! Scusa, Mico! Ultimamente gli è venuta la passione per... State fighting! Boxing! Piro! Scusa, Mico! Piro! Scusa, Mico! Ma chi cazzo di Maria? Dobbiamo dargli uno... veramente in cambio. Ma chi? Il polpetta! No, flaccido, flaccido! Cos'è, ad esempio? E senti, se gli mandassimo... il polpo... che si attaccava... Ma cadessero? Sì, no... Sì... Quello... minatore lì... di roccia... Quello che ha fatto il minatore su... un carico del predio... per una cinquantina d'anni... forse è un po' vecchio! lo trova! Johnny! Johnny Bego! Johnny Bego! L'ex carcerato! Buona! Come si chiamava. Come si chiamava. Come si chiamava. Se siete qua, vi serve una casa, penso. E se può per questo... Una casa, Don Inzetti? Siamo ancora con questa storia della casa, Don Inzetti. Noi sappiamo benissimo che cosa tu gestisci. E per questo noi siamo qua. A noi siamo...